Cos'è questo? Osi portare un mortale alla sorgente del creato? È prezioso per me, non potevo abbandonarlo. Ah, perché sei qui da me? Sono venuto a farti una richiesta. In tal caso, interromperò ciò che sto facendo e obbedirò al tuo comando. Non volevo mancarti di rispetto, mi dispiace. Tu non conosci la differenza. Resta là e fa silenzio. Ho del lavoro da fare. Porta il mortale sotto coperta se vuoi che piva. Pregno a la scuola. Pregno a la scuola. Come, 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 come. Come, come, come. Grazie a tutti.